Ciao a tutti ragazzi siamo tornati su BodyComb 5 pronti per un'altra partitozza e prima di cominciare andiamo a vedere che cosa abbiamo da spacchettare un pacchetto battaglia che servirà poco vediamo se esce qualcosa di buono ma non credo ok tutta roba che già abbiamo ok indietro allora facciamo una cosa andiamo a farci un po di pacchetti protettivi intanto ne prendiamo uno ragazzi vediamo se magari ci danno la grazia di darci qualcosa di buono che riusciamo a mettere ho busto strategos e più le gambe dell'armatura pericolo ok andiamo a vedere se riusciamo a fare qualcosa ragazzi allora andiamo di qua poi che facciamo andiamo a prendere l'uniforme vediamo se allora il busto no le gambe riusciamo a mettere le gambe ok vediamo allora adesso abbiamo la corazza anti esplosivi 40% più la protezione da proiettili 4% vediamo adesso 5% no non era 40 era 4 poi tra l'altro ok quindi le gambe gliele andiamo a mettere perfetto come busto lasciamo quello che abbiamo perché al momento è quello più cazzuto e come braccia non abbiamo niente da mettere al momento manco quello del babbo natale mentre come caschetto babbo natale anche no allora arrega al 5 per cento di danni più alla classe pesante vediamo quello di babbo natale ragazzi così per curiosità eh ma penalizza la mobilità no già è lento anche no ok bene ragazzi allora che volevo fare andiamo a togliere subito il silenziatore perché col silenziatore ho già visto che è dura molto dura aspettate però io ho usato quello di silenziatore se utilizzo quest'altro è peggio ok ok tromboncino montato come caricatore ancora non aveva la possibilità di potenziarlo bene ragazzi allora che facciamo ha innanzitutto voglio cambiare colore dell'arma perché non mi piace più questo andiamo a metterla gold visto che siamo tutti in tinta ok e poi per quanto riguarda la pistola la lasciamo così com'è lasciamo questa qui per quanto riguarda la pistola andiamo a mettere anche la pistola di color oro che è più figa utilizziamo poi ciondo di ciondolini ancora non abbiamo la possibilità di mettere il mio logo il mio spadino 500k ai 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 ok bene ragazzi siamo pronti direi che siamo pronti per partire questa volta andiamo a farci una partita multigiocatore ultima volta abbiamo fatto cattura la bandiera questa volta andremo a fare un controllo zona vediamo vediamo cosa riusciamo a combinare con un controllo zona questa volta siamo pronti speriamo insomma siamo sulle strade controllo zona o figo ok si parte catturiamo subito si vabbè dai ho cominciato a sparare per primo stronzo guardatelo guardatelo come è bello infuocato a sparare l'elicottero chiazziamo una granata qui per terra vediamo se li cucchiamo questi due bastardoni no è niente da fare ragazzi niente da fare abbiamo tutta gente cazzuta muori bastardone muori proviamo a conquistarla sta zona ragazzi ci proviamo no è niente da fare no è niente da fare no è niente da fare partita completata siamo riusciti almeno a cercare di salvare questa zona ma non è bastato non è bastato ragazzi per completare la partitozza comunque bene si passa direttamente alla prossima partitozza siamo morti tre volte qua i punti continuano a scendere a scendere sempre più ok direi che siamo pronti quindi io vorrei andare più che altro sul cantiere sempre con controllo zona ma sul cantiere proviamolo vediamo siamo tre pari vediamo chi l'avrà vinta questa volta si parte si parte e dove siamo di nuovo sulle strade benissimo ok via di qua ok via di qua ok ah ok 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 muori bastardo colpo da testa bello 26 e 34 ragazzi dobbiamo darci da fare ok 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 muori 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 poi dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dobbiamo tornare in bravo muori 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 Dai ragazzi Grazie bello Mi hai salvato il culetto Lo sapevo che stava arrivando Quello da sopra Lo sapevo Speravo di riuscire a fare il giro dietro il furgone Sei quello di prima tu Ti sta bene bello Ti sta bene Ok partita completata 176 la seconda è andata meglio Benissimo Ok ragazzi Concludiamo qui la partitozza Mi raccomando Spolliciate se è piaciuto il video Incrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Nel frattempo noi continueremo ad allenarci Cercare di salire un po' la classifica Per cercare di sbloccare innanzitutto nuove armi Potenziare quelle che abbiamo Perché siamo un po' scarsini in questo momento Ok ciao a tutti ragazzi Complimenti Hai terminato la visione Da questo momento Hai 10 secondi Per fare la tua scelta Iscriviti al canale BEEP 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 AHHHHH